In questo video vedremo come compilare automaticamente i dati presenti all'interno del PowerPoint. Ci ritroviamo magari settimanalmente o giornalmente a prendere delle informazioni da dei fogli Excel e inserirli poi nei PowerPoint per fare le nostre presentazioni, i nostri meeting. Si può automatizzare tutto questo con un semplice clic di aggiornamento. Se vediamo questa prima slide ha questo oggetto che è un oggetto che è presente all'interno di Excel, è un grafico. Se io faccio un clic destro e faccio aggiornamento lui andrà a recuperare le informazioni che sono presenti nel grafico attualmente nel report Excel e me le aggiorna, vedete che sono cambiate. Qui ad esempio ho un altro grafico e qui ho addirittura un perimetro di celle, quindi non è che posso collegarmi solo a un oggetto ma posso prendere anche un range di celle e riportare qui il collegamento di tutto quello che c'è all'interno del range delle celle. Quindi in questo caso ad esempio ci sono dei dati. Anche qui se vado a fare clic destro e faccio aggiornare collegamento lui andrà a recuperare le informazioni e vedete che le ha aggiornate. Allora andare ad aggiornare gli oggetti uno alla volta è decisamente scomodo ma prima di vedere come aggiornare automaticamente gli oggetti e come neanche aprire PowerPoint e creare un automatismo che dall'Excel ad esempio vada a aggiornare il nostro PowerPoint vediamo come creare questo tipo di collegamenti. Allora se noi ad esempio andiamo qui e duplichiamo questa diapositiva, lo portiamo giù in fondo e cancelliamo ad esempio l'oggetto visivo. Perfetto, come prendo l'oggetto da Excel? Allora la prima cosa che dobbiamo fare è andare ad aprire il nostro report Excel che contiene le informazioni che ci interessano. Quindi lo apriamo ed eccolo qua. Allora se vogliamo prendere un oggetto basterà cliccare sull'oggetto e fare un ctrl c, quindi andiamo a copiarlo oppure premiamo il bottoncino che c'è in alto a sinistra. Copiamo l'oggetto. Dopodiché torniamo su PowerPoint, andiamo qui e non facciamo incolla, altrimenti si porta dietro l'immagine. Andiamo su incolla, la linguetta che c'è in alto e facciamo incolla speciale. A questo punto andiamo su incolla collegamento e lui qua ci propone oggetto grafico Microsoft Excel, è proprio quello che ci interessa. Quindi selezioniamo questo tipo di collegamento e facciamo ok. Così facendo abbiamo collegato il grafico che c'è in Excel all'interno di PowerPoint, proprio per poterlo avere linkato. E qui possiamo anche andare a ridimensionarlo se vogliamo. Così però prendiamo solo l'oggetto specifico. E se mettiamo delle informazioni sopra al grafico, facciamo anche un esempio, andiamo ad esempio qui e mettiamo ad esempio anche un'illustrazione. Facciamo un tondino, ok lo facciamo così. Se io mi prendo l'oggetto e vengo di qua e faccio incolla speciale collegamento grafico, mi prendo sempre questo oggetto. Ma se io voglio tutto quello che c'è all'interno delle mie celle, come abbiamo visto per la tabellina qui. Allora il trucco è per le celle, ad esempio per i dati, facciamo sempre CTRL-C, torniamo su PowerPoint, andiamo di qua, facciamo sempre incolla speciale, incolla collegamento. E qui dobbiamo prendere oggetto foglie di lavoro e Microsoft Excel codice, ok? Se facciamo così appunto ci partiamo dentro il perimetro di celle. Quindi se questo è valido anche per i dati, è valido anche per tutto quello che è all'interno del nostro perimetro. Ovviamente vedete qui il mio perimetro, gli oggetti sono all'interno delle celle, quindi l'oggetto non devo trasbordare fuori dal perimetro che ho selezionato. Facciamo un CTRL-C e andiamo su PowerPoint. A questo punto facciamo un bel incolla speciale, andiamo su incolla collegamento, prendiamo sempre il primo che è quello di riferimento per le celle e ci porta qua tutto quanto. Vedete che io ho tutto il mio perimetro e il bordino è proprio il bordino delle celle. Se il grafico trasborda dalle celle che ho selezionato non ce lo riporterà. Però così abbiamo tutte le informazioni e possiamo andare anche a creare dei KPI di performance, ma ad esempio cambia l'immagine se il dato è buono o non è buono. Possiamo metterci sopra tutti gli oggetti che vogliamo. Copiando il range di celle aggiorniamo il nostro PowerPoint in automatico. Ok, questo è come fare il... vedete che qui l'ha già aggiornato in automatico, ma perché ho la fonte aperta. Adesso che abbiamo capito come creare i collegamenti da Excel a PowerPoint vediamo anche come aggiornarli. Allora, chiudiamo l'Excel. Non salvare. E chiudiamo anche la nostra presentazione. Allora, il modo più semplice è quello che facciamo tutti i collegamenti e posso andare poi a aggiornarli una volta. Chiudiamo il PowerPoint, lo apriamo e lui ci chiederà vuoi aggiornare tutti i collegamenti del nostro PowerPoint? E premi Aggiorni collegamenti. Se faccio nulla, lui lo apre senza aggiornarli. Se appunto premo Aggiorni, lui prenderà tutti gli oggetti che sono collegati nel PowerPoint e inizierà ad aggiornarli. Se ne avete tanti e magari l'aggiornamento richiede magari 10-15 minuti, se qualcuno sbaglia a cliccare quel bottoncino deve poi aspettare che finisca il PowerPoint oppure lo deve buttare giù con il gestione delle attività e riaprirlo premendo poi su Annulla. E quella voce lì è un po' brutta, un po' scomoda. Allora, io qui ho ideato una macro che ci permette di fare la stessa identica cosa. Se noi andiamo su Sviluppo, se non avete Sviluppo si attiva da Menu File, Altro, Opzioni. Andiamo su Barra Multifunzione e qui trovate il menu Sviluppo. Se andiamo in Sviluppo, andiamo nel Visual Basic, io qui che cosa ho fatto? Ho fatto un tasto destro sul mio progetto, inserisci Modulo. Poi Modulo l'ho rinominato qua sotto con Update e ho scritto questa piccola funzioncina. Che cosa fa questa funzioncina? Allora, la parte fondamentale è questa qui. Allora, disattivo tutti gli avvisi in modo che non mi chieda ogni volta se voglio aggiornare l'elemento collegato a Excel oppure no, quindi è False. Poi cosa faccio? Con questa variabile slide, io scivolo tutte le slide, creo un ciclo che lui va a ciclare tutte le slide che sono contenute all'interno del mio PowerPoint. Poi con quest'altra variabile vado a ciclare tutti gli oggetti che sono contenuti, tutti i link che sono contenuti all'interno della mia slide. Quindi io qui ad esempio ne ho uno, ma se ne avessi più di uno lui li scorrerebbe tutti quanti. Quindi crea questi due cicli che va a scorrere le slide e gli oggetti e con questa funzioncina qua lui va ad aggiornare i link che sono posti dietro ai nostri oggetti. Quindi fatto il ciclo, quando lui ha finite tutte le slide e ha finito tutti gli oggetti, lui avrà aggiornato tutto. Se metto uno stop e andiamo ad eseguire il nostro script, ad esempio mi metto qua e faccio ad esempio un F5, vedrete che qui dovrebbe cambiare. Adesso lui va, scorre, ecco che è cambiato, vedete sono cambiati i numeri. Perché stanno cambiando i numeri? Perché sull'Excel erano fissi, no? Perché dovrebbero cambiare ancora? Perché sull'Excel ho messo una funzioncina che mette i numeri in modo random, quindi ogni volta che io accedo lui randomizza i numeri che sono contenuti nel file Excel. Ve lo faccio vedere per semplicità. Se andiamo qui, per l'esercizio, vedete che qui ho messo casuale tra 1 e 100. Quindi quando il link entra, aggiorna questa formula e prende dei numeri casuali. Per non avere il PowerPoint che cambia numeri di continuo, basterebbe tenere la fonte aperta. Ma ai fini dell'esercizio che sto facendo, a me va bene farvi vedere che cambia il grafico, perché vi dà la sensazione che effettivamente è andato a recuperare qualcosa. Quindi questo è lo script che mi permette di aggiornare tutti gli oggetti di tutte le slide che sono presenti all'interno del mio PowerPoint. Quindi questo potrebbe essere sufficiente per voi per fare un aggiornamento. Io qui ho messo public sub, quindi che cosa significa? Perché una volta che ho fatto la mia macro, posso semplicemente andare anche in sviluppo, andare su macro, la trovo qui, la selezione e faccio esegui. Nel momento in cui faccio esegui, aggiornerò tutto. Però così facendo ho creato sì la macro, poi vediamo il secondo pezzettino. Però non mi sono tolto dalle scatole il fatto che quando io lo apro mi sparisca questa finestrina qui. Allora qui come si fa a fare questa cosa? Facciamo nulla, andiamo sul menu file, andiamo su informazioni a sinistra e poi scorriamo sulla destra e troviamo modifica collegamenti ai file, qua giù in basso a destra. Clicchiamo qua. Si apre questa schermatina qua che sono tutti gli oggetti collegati all'interno del nostro PowerPoint. Allora qui dobbiamo scorerceli uno alla volta, anche qui bisogna inventarsi una macro per farlo in automatico. Non l'ho fatto, quindi andiamo qui, prendiamo il primo, togliamo aggiornamento automatico. Lo togliamo, lo facciamo anche dal secondo e lo facciamo anche dal terzo. Si fa una volta solo a questo tipo di attività. Facciamo chiudi. Se adesso noi torniamo indietro e salviamo il nostro PowerPoint, alla prossima riapertura non chiederà più quel messaggio, quindi lui non chiederà più se vogliamo aggiornare tutti gli oggetti. Così se voi siete le persone che vanno ad aggiornare questo PowerPoint, chi magari poi lo utilizzerà per andare a visionarlo, magari il vostro capo, non gli comparirà quel messaggino e non rischierà di incappare nell'errore di premere aggiorna. Quindi lo controlliamo noi che siamo gli sviluppatori. Dopodiché, come abbiamo visto prima, sviluppo macro, arrivo sul link update e faccio esegui se devo aggiornare la slide, altrimenti non l'aggiorno. Che cosa faccio io di solito? Facciamo un passo in più, no? Io ho sempre una cartella master quando lavoro, no? Perché nella cartella master si accede solo lo sviluppatore di solito e sulla cartella public ci metto i file che poi tutti possono andare a visionare. Quindi io non voglio che tutte le persone possano accedere al file di sviluppo, perché magari potrebbero cancellarmelo, potrebbero modificarmi delle cose dentro che non va bene. Io voglio sempre avere il controllo di quello che gestisco io. Quindi, che cosa fa la macro successivamente? Andiamo nel PowerPoint e andiamo a vedere la macro. Quindi quando ho aggiornato tutti i miei link all'interno del PowerPoint, rileva, partendo dalla data di sistema con questa funzioncina qua, prendo l'anno, il mese e il giorno. E qui mi esce la data giuliana. Facciamo un bel F5 fino a qui. Adesso lui aggiorna tutti i link e arriverà qui tra poco. Ok, eccola qua. Se noi facciamo un F8, vedete che mette il 2024.05.04, che è il 4 maggio nel momento in cui sto registrando questo video. Dopodiché cosa faccio qua sotto? Vado ad identificare in modo automatico come si chiama il mio file. Quindi faccio un F8, valorizzeranno il nome, col nome del mio file. Vado ad identificare la folder dove io voglio poi andare a salvare il mio PowerPoint, che la metto sulla public, come vedete qua, e faccio un F8. E dopo qua, che cosa faccio? Vado a fare con l'applicazione, vado a fare un salva con nome sulla path, nome, underscore, data giuliana. Quindi se faccio un F8 qui, lui andrà a salvare una copia del mio file aggiornato all'interno della folder public. E me la metterà con la data giuliana. Così quando io andrò ad aggiornarlo magari tutti i giorni, mi troverò magari lo storico anche di tutti i miei aggiornamenti. Così non perdo le presentazioni vecchie con i dati vecchi che potrebbero tornare utili. Attenzione che qui, se osservate nel codice, vi ho messo anche due commenti. Vi ho messo il save, che praticamente salva su se stesso, nel caso non vi interessa gestire la parte public. Oppure ha messo save, copy, che differenza c'è tra save as e save copy. Il save as prende la presentazione che io sto utilizzando in questo momento e la salva su un'altra posizione. Ma io mi sposto con lei, quindi quando io avrò seguito questo salvataggio non sto più lavorando nella cartella master. Sono posizionato nella cartella public e sto usando il file sulla cartella public. Quindi se faccio altre modifiche si salveranno solo sulla public, quindi molta attenzione perché se aggiornate tutto e poi modificate le cose e fate salva, non state più salvando nella master. Se invece usate il save copy as, quando voi andate ad eseguire questa istruzione al posto del save as, lui creerà una copia del file che state utilizzando nella cartella public. E sarà chiuso perché voi starete ancora utilizzando in questo momento il file master. Ok, capita la cosa, facciamo un ultimo passo, andiamo ancora ad automatizzare maggiormente la nostra automazione di aggiornamento del powerpoint. Questa è tutta la funzione all'interno del powerpoint che ci permette appunto di aggiornare tutto e salvare poi nella cartella public. Ipatizziamo che io il powerpoint non lo voglio nemmeno aprire, quindi lo chiudiamo e andiamo, adesso lo cancelliamo anche dalla public, anche se lo rilancio ovviamente andrebbe a risovrascrivere il file, e apriamo l'excel perché io sto lavorando qua, sto creando tutte le mie cose qui di dettaglio, con le formule, con gli oggetti visivi eccetera. Quando finisco di aggiornare tutti i dati devo poi andare ad aggiornare il powerpoint, quindi dovrei uscire da excel e poi dovrei aprire il powerpoint e lanciare la macro. Possiamo farlo direttamente qua. Ad esempio qui che cosa ho fatto? Possiamo fare anche, andiamo sempre su sviluppo visual basic, e qui ho fatto un'altra macro. Ok, quindi una sub, anche qui potremmo poi farci anche un pulsantino, andiamo su illustrazioni, ci prendiamo questo, ci facciamo un pulsantino, tasto destro, assegna macro, e ci prendiamo la macro che abbiamo creato. Quindi se io qui vado a cliccare poi andrò ad aggiornare il powerpoint, ma come fa la macro ad aggiornare il powerpoint in automatico da excel? Andiamo a vedere, allora, ci sono un po' di righe ma in realtà è poca roba. Ora qui definisco un po' di variabili che mi servono per poter aprire il powerpoint che mi interessa. Su filepot ci metto il percorso, vedete che sono su master, del powerpoint che voglio andare ad aprire. E qui che cosa vado a fare? Vado ad aprire praticamente, apro un oggetto di powerpoint, quindi si aprirà powerpoint senza niente di aperto. Qui controllo se l'ho aperto o non l'ho aperto, altrimenti riporto un messaggio di errore, quindi questa parte volendo potreste anche cancellarla. E qui rendo visibile powerpoint, perché quando si fa a creare un oggetto, quando apre un'applicazione di Microsoft, compare in modalità invisibile. Quindi se non voglio renderla visibile durante l'esecuzione della macro, basta non eseguire questa istruzione o lasciarla in false. Qui c'è anche la gestione degli errori in mezzo, ma diciamo che poi arrivo con set ppt press, quindi vado a prendere la mia applicazione di powerpoint che ho aperto e carico il file path, che è proprio questo powerpoint che io ho indicato qua su. In questo percorso non è file estensione, quindi lui andrà ad aprire questo powerpoint all'interno dell'applicazione che io sono andato ad aprire. Qui vado a fare un controllo se l'ho aperto correttamente o non l'ho aperto, quindi anche qui, volendo, se vi interessa, potete schippare questo pezzo di script. E qui vado ad eseguire la macro che è contenuta all'interno del powerpoint che ho aperto, quindi apro la run, faccio un run del powerpoint name, e faccio un virgolette e virgolette, ci metto il punto esclamativo all'inizio e poi ci metto il nome della macro che è contenuta nel powerpoint. Quindi se andiamo a prendere il nostro powerpoint e andiamo a vedere su sviluppo che cosa ho scritto, ho scritto link update, quindi questo è il nome della nostra macro. Se andiamo appunto su Excel, eccolo qua, attenzione che ci deve essere il punto esclamativo a sinistra. Quindi lui andrà ad aggiornare il mio powerpoint, che il powerpoint aggiunga tutti i link, crea poi una copia sulla cartella public, però si ferma lì, quindi il powerpoint rimanerebbe aperto. Quando lui ha fatto tutta quella parte, lo script ritornerà su Excel, perché mentre esegue questa parte qua, lo script passa a un'altra applicazione e continua sull'altra applicazione. Quando ha finito, ritorna di qua, mi chiude la presentazione di powerpoint che avevo aperto, quindi questo file, però l'applicazione rimane aperta. E allora faccio anche un quit dell'applicazione, così mi chiude anche il powerpoint. E qui praticamente vado a resettare le variabili. Così facendo, quando io andrò a fare click, che posso fare anche un tasto a destra, un giorno, un ppt per dire, poi ci clicco sempre col destro, arrivo su home, lo centro e ci giocate come volete. Quando io andrò a cliccare qua, vedete che apre il powerpoint, l'ha aggiornato, l'ha chiuso. Se andiamo a vedere nella cartella public, ecco che ha aggiornato il nostro powerpoint completamente in automatico. Si può andare ancora oltre con l'aggiornamento, perché addirittura potreste prevedere di aggiornare in automatico l'Excel. Se vi interessa vedere anche questa cosa qui, cercate all'interno del mio canale, che ci sono tanti video che vi spiegano come automatizzare anche l'Excel. Quindi potreste automatizzare veramente tutto e potete arrivare a migliorare la vostra efficienza lavorativa, veramente a portarla ai massimi livelli, per guadagnare tanto tempo, per fare ad esempio qualcosa altro, magari che è più utile del fare copia, incolla, sposta, muovi, eccetera. Ok, direi che anche con questo video è tutto. Se è stato il vostro apprezzamento, lasciate un bel pollizio in su, magari lasciatemi un commento sotto, ditemi cosa ne pensate, se anche se vi è tornato utile o quant'altro, così mi aiuterete a posizionare meglio il video all'interno della piattaforma. Se invece vorrete sostenermi in altro modo o in modo incisivo, potreste pensare ad un abbonamento col tasto abbonati che c'è sotto al video. Così potrete accedere anche a tutti i servizi che offre il mio canale, sono tantissimi, e sicuramente sarà un ottimo incentivo per me per continuare a fare video di questo tipo all'interno del canale. Se invece vorrete supportarmi in altro modo, in descrizione trovate tanti altri modi per supportarmi. Ad esempio, se siete interessati a una VPN, io utilizzo CyberGhost, in descrizione trovate il link per arrivare all'acquisto di questo tipo di VPN. Oppure trovate anche un altro link che vi porta all'acquisto di licenza software, ad esempio Windows, Antivirus e così via. Bene, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao! Ciao!